Visto il grande aumento di casi nel territorio cilentano e non, l'ospedale San Luca potrebbe riaprire l'area Covid, andando a dare supporto al Covid Hospital di Agropoli. L'area Covid del San Luca è stata molto importante durante la prima ondata del coronavirus. Infatti sono stati vari i pazienti cilentani ad essere stati curati nel presidio vallese. L'attuale situazione, poco confortante, pare che stia spingendo la direzione dell'ospedale a riaprire i battenti dell'area designata ai contagiati, come confermano voci interne al presidio ospedaliero. Al momento la decisione non è ufficiale, ma è nell'area e sempre più auspicabile. Il San Luca però ad ora non è sprovvisto di servizi per i positivi, visto che già ospita pazienti affetti dal virus e all'interno della struttura è presente già un percorso Covid interno con ascensore dedicato. All'esterno della struttura è presente il pretriage, la tenda dove vengono trattati inizialmente i casi sospetti.